Comandante, la vediamo alle nostre spalle, la CP305, la moto vedetta che è tornata da poco dal canale di Sicilia dove avete effettuato diversi salvataggi, si parla di quasi 700 migranti riportati a terra. Direi che il bilancio è molto positivo. Sì, molto positivo, anche se è stata una missione molto impegnativa perché trovevamo questi barchini quasi sovraffollati e proprio al limite della stabilità del mezzo. Anche l'affiancamento è stato abbastanza difficile perché queste persone come ci avvicinavamo si alzavano e cercavano tutti di salire a bordo, quindi c'è stato un gran lavoro per tenerle ferme. Un bilancio è molto positivo e siamo veramente contenti del lavoro che abbiamo fatto. Al di là dei numeri che sono sicuramente importanti, c'è anche l'aspetto umano di essere sul campo e dare una mano a queste persone che avete voi stessi definito una vera emergenza umanitaria. Che effetto fa essere lì e vedere queste persone che sono pronte ad affrontare il mare in condizioni estreme per salvarsi? Sì, infatti ti dà proprio pensi, vedi queste persone che arrivano, rischiano la vita per avere una speranza di una vita migliore e ti lascia proprio un magone all'interno. E come sono stati gli interventi? Insomma avete effettuato sia di giorno che di notte i salvataggi e con quali condizioni meteo? Svariate condizioni meteo e chiaramente ogni intervento era a sé, ogni valutazione andava fatta sul posto, bisognava avere una lucidità anche mentale che ti permetteva appunto di valutare la situazione giusta perché queste persone, come diceva il comandante prima, sono persone piene di paura che come ti vedono si riaccende quella speranza di vita proprio per cui anche negli occhi leggi questo terrore ma anche questa speranza di imbarcare, gestire lo sbarco non è solo arrivare e raggiungerli ma anche farli trasbordare nel massimo della sicurezza sia per loro che per noi. Tante storie, l'abbiamo detto prima a microfoni spenti, insomma che avete incontrato ce n'è qualcuna che vi è rimasta particolarmente impressa? Beh sicuramente quando abbiamo raggiunto un barchino completamente di metallo sembrava da lontano una simile vasca da bagno, piena di ruggine però e queste persone praticamente stremate sia dal viaggio ma anche dal caldo che avevano preso con quattro giorni di mare dietro le spalle per cui veramente sul filo della vita e della morte e con bambini e neonati al seguito? Con bambini e neonati e donne al seguito, esatto per fortuna li abbiamo tratti tutti in salvo ma quella sarà sicuramente una delle situazioni più critiche che abbiamo incontrato che abbiamo incontrato che abbiamo incontrato che abbiamo incontrato